di Gesù. I brani di commento sono tratti dal Vangelo secondo San Luca, dal Cantico delle Creature di San Francesco, dal Paradiso di Dante Alighieri e il percorso della Madonna e San Giuseppe alla ricerca di un alloggio, dalla Notte Santa di Guido Gozzano. Oh, Luciano, ma che razza di romano sono io, eh? Romano di Roma. In una città della catidea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa meraviglia chiamato Giuseppe. Grazie. 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 Grazie a tutti. Re erode con la sua corpa. Queste figure rappresentano bene tutti coloro che anche oggi sono indifferenti al momento sacro della divinità di questa notte santa. Pieni di egoismo e schiavi del consumismo, abbiamo ormai dimenticato il vero significato del Natale. Questo primo sentimento fu fatto quando era governatore della Siria. Andavano tutti per farsi registrare, ciascuno nella sua città. Un po' di posto avete per me e Giuseppe? Signori voi, miei mele duole, è notte di prodigio, sono troppi i forestieri, le stanze ho piene zette. Il campanile scorta lentamente le sette. Grazie. 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 per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era più posto per loro nell'albergo. Ecco, Giuseppe ci ha mostrato il bambino appena nato. Io non c'ho una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un salvatore che è Cristo Gesù. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. Incenso al Dio Buon ringraziamento fa all'assessore Francesco. Grazie a Laura Magni, a Ivone Soli e al motoclepe Moto Pantegane. Grazie a San Cesario Alpanaro e a tutti voi che siete intervenuti. Grazie a San Cesario Alpanaro e a tutti voi che siete intervenuti. Grazie a San Cesario Alpanaro e a tutti voi che siete intervenuti. Grazie a San Cesario Alpanaro e a tutti voi che siete intervenuti. Grazie a tutti voi che siete intervenuti.